Ha fatto notizia in settimana una situazione particolare che si è creata a Domodossola, squadra seconda in classifica, due giocatori momentaneamente fuori rosa. Abbiamo il mister Enrico Castelnuovo e uno dei due protagonisti, Simone Soncini. Vediamo di fare un po' il punto e un quadro di quello che è successo. Enrico, una settimana un po' particolare. Noi abbiamo cercato di stare tranquilli e abbiamo dato la notizia solo successivamente a quello che è stato espresso sul sito ufficiale della società. Vuoi aggiungere qualcosa su quello che è successo o vuoi che ti faccia io domande? No, faccio un po' un riassunto di dieci minuti. La situazione è stata un pochetto, secondo me, gonfiata perché alla fine fondamentalmente abbiamo parlato anche con Fabio Scesa due giorni fa, per cui il ragionamento è uno ed è semplice, cioè i due ragazzi con i quali abbiamo un bel rapporto, un tutto rispetto e penso anche reciproco che il concetto era solo uno. Noi siamo arrivati i secondi in classifica, secondo me abbiamo fatto comunque un buon campionato. Il perché siamo arrivati i secondi? Secondo me lo possiamo tranquillamente capire, tra cui anche punti persi in casa, anzi sicuramente perché alla fine la Virtus non ha mai perso, ne abbiamo perso i due con Gattinale e Bollengo. Di conseguenza non è che è molto difficile ragionare su questo andazzo. Per cui il ragionamento è stato uno. Nel momento in cui siamo arrivati i secondi, sia Simone che Antonio, negli ultimi dieci giorni, 12-14, ha fatto un buon ragionamento di scesa perché alla fine, diciamo, come se questo secondo posto sembrava come se fosse già un minimo di risultato raggiunto, quando invece adesso bisogna spingere un pacchetto sull'acceleratore. Per cui fondamentalmente scesa ad oggi non è comunque contento, comunque pur di un buon secondo posto. È successo che allora io personalmente, nel senso i due ragazzi che sono Simone e Antonio, forse, anche per situazioni loro, non è che si sono comportati male durante l'allenamento, il campo, nel senso forse hanno mollato un pochetto, tra virgolette, la spina in quel contesto come se fosse il campionato finito. Ecco, io loro ho cercato di prevenire in maniera magari in maniera troppo aggressiva perché alla fine sono stato duro nei loro confronti, ma era soltanto un richiamo, in questo caso dalla loro parte, ripeto, senza che avessero fatto chissà che cosa, quasi per paura che si mollasse la volontà e secondo me loro non è che hanno mollato la volontà, forse involontariamente si sono leggermente seduti un attimino. Per cui si è andato subito duro per cercare la loro risposta che c'è comunque già stata e non c'era neanche secondo me dubbio. Per cui fondamentalmente è una situazione interna nostra ma senza nessun tipo di gravità, perché alla fine li hanno un po' marchiati come lui soprattutto per quella nera del gruppo durante le situazioni, penso che non faccia piacere questo anche perché non è vero, hanno soltanto dieci giorni per situazione, loro hanno mollato leggermente la presa e noi abbiamo avuto soltanto paura di non presentarci ai play-off al 100% mentalmente. Per cui è stata fondamentalmente una situazione di paura e di prevenzione, per cui la cosa è rientrata ma non avevo dubbi io, per cui dopo tutto il resto il 98% è stato secondo me gonfiato, per cui è giusto non essersi interessati troppo perché secondo me è stato un interessamento come se loro fossero i cattivi del gruppo ed era meglio non averli che averli, questa secondo me è stata una stupidata perché sicuramente è meglio averli, sicuramente ci stanno anche in una famiglia quale siamo, parlarsi chiaramente e ogni tanto avere i disaccordi. giusti i due dati che siano perché non è detto che io abbia fatto il giro giusto, però non sono proprio contentissimo sul fatto che loro siano stati comunque imputati per il colpevole di qualcosa, per cui fondamentalmente era una cosa secondo me normale di paura che secondo me adesso dobbiamo accelerare per andare ai play-off. Allora la paura era soltanto quella, come se due persone in questo momento aspettassero poi quelle che sono le settimane le partite più importanti. Allora Simone, la seconda domanda la faccio a te, che hai fatto qualche partita di calcio su qualche campo importante, così intanto se ha qualcosa da aggiungere al misto può pensarci. Non sono proprio a casa, stiamo qua a parlare, si può iniziare a parlare al misto. Ribadisco che noi ci siamo tenuti estrani, nonostante tu lo sai io ne fossi a conoscenza già dal fine settimana, da subito. Sono uscite delle notizie, non sono uscite delle notizie, è uscito sul sito ufficiale della Juve Domo una dichiarazione, tra l'altro affirme il direttore sportivo, quindi che causa del suo mal, pianga se stesso, non sono stati giornalisti a avere ingigantito. Chi secondo me l'ha pagata in maniera eccessiva sono stati i primi di tutti i giocatori che credo abbiano vissuto una settimana brutta. Ma no, vabbè, non sto qua a sindacare quello che ha detto Giuliano, nel senso il direttore lui può, ognuno ha libertà di parola. A me fa piacere quello che ha detto il mister e che comunque anche i ragazzi dei miei compagni, con i quali sto giocando tutto l'anno, spero di giocarci anche l'anno prossimo, mi hanno dimostrato che sono sempre stati dalla mia, quindi a me questo fa più che piacere. Ripeto, quello che ha detto Giuliano sono cose sue, è un suo pensiero, detto male, detto bene, giusto, sbagliato, è un suo pensiero che non lo sto lì a sindacare. Io ho parlato giovedì sera col mister, con Fabio, abbiamo fatto il quadrato della situazione, abbiamo fatto effettivamente, pensarci bene, gli ultimi dieci giorni a livello, diciamo, extra calcistico, l'ho presa un pochino molle e ne prendo atto. Ho fatto le mie scuse al presidente, che comunque ci lasciamo al mister e a tutti i ragazzi dello staff, che si impegnano tutti i giorni, perché si impegnano tutti i giorni, arrivano al campo prima, organizzano, fanno, magari è mancato un pochino di rispetto sotto quell'aspetto lì, punto. Ho chiesto scusa, abbiamo fatto quadrato della situazione, siamo pronti per fare questi playoff al massimo. Domanda, banalissima. Non era sufficiente metterli in castigo domenica? Magari dirlo anche chiaramente per quale motivo, anziché passare una settimana così turbolenta per una squadra seconda in classifica e che va a giocarsi interamente le sue chance come favorita dei playoff, col senno di poi poteva essere gestita un po' meglio, poi minuscolo. Sì, secondo me è stata una scelta, nel senso, tornando indietro, rifare la stessa cosa, perché alla fine è un avviso a loro due, a tutti quanti. Qua c'è da raggiungere l'eccellenza, per cui come sono utilizzato loro per far capire a tutti quanti quanto ancora in più dobbiamo dare per elevare la categoria sfuggita pochissimo l'anno scorso, per cui fondamentalmente se li conosco bene, i ragazzi e loro, ci abbiamo un pochetto giocato nell'essere duri, ma mai ho onestamente pensato che ci fossero dei problemi, anzi, secondo me serve di più perché siamo più compatti, perché la squadra ha reagito benissimo e questo fa capire che alla fine un gruppo si è creato, per cui io ho sentito soltanto parole positive dei ragazzi nei loro confronti, ma anche io stesso. Per cui non è fondamentalmente un po' come fare una specie di situazione per poter immaginare di unirsi ancora di più, e secondo me ce l'abbiamo fatta, per cui questo è importante. Non è sempre comunque la cosa pratica che questo ha scaturito una situazione negativa, delicata una settimana, no, noi dobbiamo compattarci, i ragazzi hanno lavorato bene, lo sono tornati a lavorare ancora meglio, per cui alla fine secondo me ci stava, ma questo lo puoi fare solo nel momento in cui pensi di avere a che fare con degli uomini, per cui se questo non sarebbe successo o stato, nel senso allora avrei sbagliato tutto, ma io avendo a che fare con degli uomini penso che hanno risposto da uomini, tutti, gli altri e loro, per cui secondo me questo ci unisce di più, per cui tornando indietro non mi interessa molto il quando è stato fatto, perché siamo vicini ai play-off, secondo me era solo da sottolineare di mettere la sesta marcia per fare i play-off, perché alla fine l'anno scorso noi siamo già comochieri, è successa più o meno la stessa settimana contro quattro ragazzi, ai quali non ho detto niente, abbiamo perso 5-0, noi siamo andati in eccellenza, sembrava un po' lo stesso andazio, quasi come essere arrivati ad una situazione, e alla fine è un errore così, forse dovevo farlo l'anno scorso, prima del terzo e quarto posto con San Giacomo Chieri, perché abbiamo sbragato, perché alla fine 3-4 persone hanno un pochetto mollato, per cui secondo me con l'esperienza dell'anno scorso ho cercato di preventivare quest'anno. Quindi tutto a posto, quindi tutto a posto, quindi tutto a posto. Sì sì, sono contento soprattutto per Antonio, che è un ragazzo che merita. Chiudo io con queste parole, perché io ho incontrato Simone in questi giorni, a conferma del fatto che comunque, nonostante come giornalista avrei potuto buttarla alla notizia magari prima di altri, vivendo magari più vicino a domo di altri. È stata una cosa intelligente, perché alla fine, poi dopo è emersa purtroppo da un organo interno nostro che è Giuliano, però secondo me è fatto bene così. Io volevo sottolineare come Soncini mi abbia per tre quarti delle sue parole parlato sempre di Violi e questo vuol dire anche quanto si è instaurato un legame tra giocatori, che poi Violi non abbia neanche bisogno di essere difeso perché è indifendibile, chiudiamolo con una battuta. Sì sì, no ma Antonio tante volte poi sembra, però noi qua siamo un po', c'è una società, una squadra, comunque secondo me a livello culturale è un po' una famiglia, nel senso che Antonio io gli voglio bene come tanti altri ragazzi, onestamente quando magari combina qualche situazione non questo, lui è sempre venuto, è sempre tenuto, è sempre venuto agli allenamenti, non è mai mancato su nulla, ogni tanto gli avversari, onestamente ogni tanto ha qualche difficoltà, ma questa è una sua caratteristica, ma questo non vuol dire che io non rispetto Antonio, anzi se comportato bene dovrebbe secondo me crescere in questo momento e dare quella che è la qualità di Antonio sul campo, ecco questo manca, che è tanta, per cui alla fine quello che voglio spiegare è che noi Antonio lo rispettiamo, per cui se viene ripreso è solo perché hai, credi in un ragazzo che possa rientrare da Antonio Violi. Simone non ti faccio nessun'altra domanda perché sono convinto che risponderei sul campo. Certo, basta parole, però basta a tutti, nel senso basta parlare di me, di quello che faccio al bar, che faccio a casa, che faccio in macchina, basta, pensiamo al calcio, ai playoff e andare in eccellenza. Il prossimo giro a birra paghi tu. D'accordo, volentieri. Grazie.